benvenuto benvenuti a tutti le tutte le persone che hanno voglia di ascoltarci siamo insieme io e ricco camanni io sono enrico pandiani presentiamo il suo romanzo una coperta di neve che è uscito nei gialli mondadori che hanno questa nuova questo io purtroppo nuovo libro l'ho letto sul pdf quindi non posso neanche far vedere la copertina ma la trovate e questa nuova veste grafica che hanno questi gialli mondadori diciamo chic belli che hanno cominciato con camilleri niente un po di meno e devo dirti che il tuo romanzo mia io sono io vado a curma ieri dal 1956 57 cioè io sono un curmaierese io ho visto curma ieri quando valeva la pena di vederlo cioè proprio ci sono ci sono andato dai dai dagli zero anni stavo a verran stavo aveva avere mio nonno aveva questa villa verran e quindi per me legge le grande giurace il drù dentro il gigante per me è stato un ritorno pazzesco alla mia gioventù e quindi veramente molto piaciuto questo tuo romanzo senti io voglio cominciare chiedendoti una cosa prendo un prendo un piccolo stati leggo un piccolo estratto di della della preparazione al romanzo che dice no sì della preparazione omicidi a parte il problema della montagna e che non reggi i ritmi del poliziesco in montagna e soprattutto in alpinismo i tempi sono lenti e dilatati in montagna vanno piano anche quelli che corrono le azioni sono concentrate in piccoli spazi e le emozioni si perdono dentro scenari immensi cosa c'è di te in questo romanzo cioè io penso che il protagonista che si chiama nanni settembrini ti penso che sia un tua una sorta di tua alte regole io adesso non so se anche tu fai tutte le cose che fa lui raccontaci un po delle come è nata l'idea di questo romanzo sulla montagna è un giallo ma è anche non è ma non è una gran bella storia ma intanto a proposito di quello che hai letto bisogna dire che tu sei proprio invece fai parte di quell'altro tipo di di gialli eh chiamiamoli di noir eh che invece hanno ritmi concitati no perché si svolgono in altri ambienti anche se poi anche tu ogni tanto freni eh io eh amo i gialli quindi amo eh tutto ciò che che non so come va a finire insomma e ho quasi bisogno di questo tipo di di schema ormai non riesco faccio fatica a leggere i libri che hanno un altro tipo di eh di 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 formato diciamo di impianto eh però appunto come ho scritto andare a ambientare un giallo in montagna è difficile perché o si fa come hanno fatto alcuni in passato compreso ricorderete il film di Clint Eastwood eh assassino su Liger per esempio che ha delle cose improbabili nel senso che ci sono scene eh da da poliziesco ambientate in parete no quindi ci sono eh pistole corde tagliate sangue morti e ammazzati è una cosa che in montagna succede difficilmente perché se uno è impegnato su una parete pensa a tutto meno che a uccidere il compagno perché poi se uccide il compagno rimane nei guai anche lui insomma e quindi io avevo questo problema da un lato volevo scrivere qualcosa del genere ma dall'altro lato eh insomma e quindi alla fine l'ho risolto così eh inventandomi un personaggio che un po' mi assomiglia effettivamente infatti è nato a Torino infatti ehm ha un po' la mia età infatti eh è uno che eh fa la guida alpina io non faccio la guida alpina però se non avessi fatto giornalista probabilmente avrei fatto proprio la guida alpina è uno che va in montagna che ama la montagna in modo un po' ossessivo anche se poi con l'età si è un po' calmato e mh l'ho ambientato a Colmaier su Monte Bianco perché mi interessava un luogo un crocevia internazionale insomma un posto dove si incroccino tante cose eh non necessariamente legate alla alla montagna retorica tradizionale e poi volevo un uomo moderno cioè uno di noi uno pieno di casini uno che che non sia l'alpinista duro e puro che secondo me non esiste ma che la tradizione narrativa ha un po' immortalato e che invece fosse uno veramente come tutti noi con una cosa forse in più che non so se io ho che è questo amore per le persone cioè lui quando qualcuno sparisce deve 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 fare di tutto per ritrovarlo vivo o morto ma lui non si arrende e la ricerca non è spesso una ricerca di tipo alpinistico ma è più una ricerca di tipo psicologico sì eh beh allora possiamo raccontare un attimo il diciamo il plot del del romanzo il romanzo inizia con un con una valanga sui saracchi di un ghiacciaio viene giù una valanga che eh sommerge una 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 giovane donna eh che viene coperta da questa da questa neve eh a questo punto è un questo è un è un antefatto inizia il romanzo in cui eh appunto Nanni Settembrini che ha la sua è stato sposato ha due figlie c'è la sua questa sua compagna che è valdottana anche lei che sta per partire per andare in vacanza con le sue amiche quindi lo lascia eh da solo a casa eh viene chiamato dal soccorso alpino e vanno immediatamente sul luogo della 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 valanga e eh grazie al cane che si chiama Sally se non mi sbaglio eh grazie al trovano questa 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 donna che è sola però è sola ma ha una corda legata eh in vita che è una corda che va a finire in nulla eh ma non è tagliata non è non è rotta non è niente è una corda che finisce eh nel nulla e quindi da questa da questo spunto eh nasce questo giallo che in realtà non è un giallo perché non ci sono non è un giallo nel vero senso non è un poliziesco diciamo così perché non si spara non ci sono cattivi non ci sono sparatorie ma è una ricerca eh questa donna eh quando arriva in ospedale quando si risveglia e ha perso completamente la memoria non si ricorda chi è non si ricorda come è arrivata lì non si ricorda eh se c'era se era se era sola se non era sola e quindi il il romanzo è eh la ricerca della 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 dell'identità di questa donna e del del della sua storia del 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 come mai si trovesse si trovasse lì su questo ghiacciaio ed è effettivamente un'indagine che ehm che settembrini insieme a questa giovane alpinista che è quella che ha visto la slavina venire giù e ha visto questa delle persone su questo ghiacciaio e quindi ha avvisato ed è grazie a lei che questa donna viene trovata questa giovane martina argenti che è una alpinista di genova che è lì con il suo fidanzato che però se ne va a genova mannaggia e eh e quindi questa questa coppia che si forma eh parte alla ricerca di questo di questo di questa della della verità su questa donna dell'identità di questa donna e ehm martina fa un po' da un po' da un po' da Watson a settembrini ma non solo perché poi è una in gamba è una sveglia e fa anche un po' la bond girl diciamo che è la bond girl della 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 situazione eh e quindi ehm da questo da questo viene fuori da da questa vicenda viene fuori il tuo amore gigantesco per la montagna insomma è una è una è una è una storia d'amore è una dichiarazione d'amore per la per la montagna per il mestiere che fa settembrini per per la maniera in cui lui fa questo mestiere eh chi è settembrino quanto c'è di 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 te in anni settembrini ma ci sono alcune cose importanti per esempio il fatto che lui è cresciuto a Torino negli anni settanta quindi gli anni della post del post sessantotto come me e quindi è un ribelle nell'anima nonostante tutto ribelli restiamo siamo stati un po' marchiati da questo tipo di formazione questa è una delle cose che dove mi sento di assomigliarli ehm poi l'amore per la montagna effettivamente che è un amore che evolve come tutti gli amori non scompare ma evolve quindi in adolescenza è un amore che ti prende come una bella ragazza ti ti distrugge e poi piano piano invece diventa una cosa un po' più ragionata un po' più tu riesci a prendere un po' più le distanze riesci a ragionare a parlarci riesci a a sopportarlo meglio e quindi non è più una droga così devastante ma diventa un modo di vivere con tutti i suoi pro e contro eh perché la montagna è faticosa a volte uno la manderebbe al diavolo però poi come tutti gli amori rinascono ritornano ecco stebrino è un po' uno così in più lui ne ha fatto un mestiere quindi diciamo che deve anche farci conti dal punto di vista professionale che vuol dire che lui non va in montagna per il proprio piacere ma va più per il piacere del cliente e qui ho cercato anche di sviluppare siccome io sono amico di molte guide alpine un po' questo rapporto col mestiere che è una rapporto interessante secondo me perché ai giorni nostri il fatto che uno leghi una persona la propria corda e che di fatto questa persona mette la sua vita nelle sue mani non è una cosa così scontata no che non vuol dire che si diventa amici che si diventa amici per sempre questa di nuovo retorica a volte succede a volte no però vuol dire che comunque c'è un rapporto particolare si condivide come si dice la vita e la morte nel senso che se uno fa un errore lo paga anche l'altro e questa è una cosa abbastanza singolare e le guide imparano a convivere con questo discorso nel senso che sanno che hanno delle responsabilità tutti i giorni nelle mani importanti e poi chiaramente inventano anche cioè inventano imparano degli escamotaggi imparano dei modi per non essere attravolti anche da questa cosa come fa il chirurgo che opera tutti i giorni a cuore aperto per esempio perché a un estraneo sembra una cosa impossibile ma per esempio settembrini dice beh alla martina argenta tu che sei psichiatra hai una responsabilità ben più grande di me perché il cliente quando scende giù si svega io lo lascio torna a casa su e invece il tuo il tuo paziente è sempre sempre paziente insomma certo sì non abbiamo detto che non abbiamo detto che martina è una psichiatra è una psicologa no sì una psichiatra è una psichiatra è una psichiatra e che prende estremamente a cuore questo questa 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 donna e questa sua mancanza di memoria per cui decida assolutamente che deve fargliela tornare deve ricostruire la vita di questa di questa persona qui ma tu ascolta se lo chiedo ma tu abiti a curmaiovo abiti ad aosta no no io abito a torino abito a peccetto torinese a torinese non stai su io sono un torinese e non sono mai diventato un montanaro e me ne guardo che fosse che fosse così come no perché io mi ricordo quando ero quando cittadino io non 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 potrei credo vivere in una valle cioè perché io credo sei come meglio anche io sono sono un topo di un topo di città ho bisogno della città non non lo nego affatto e ho bisogno anche di quei contrasti che ho messo anche in mano e in bocca a settembrini eh negli occhi di settembrini questi contrasti tra la città e lo sfondo cioè torino una città dove bisogna essere ciechi per non vedere le montagne e a me questo sfondo mi ha sempre entusiasmato ma non come una nostalgia perenne di tornare proprio come un contrasto perenne no perché quando sono su magari voglio essere giù e viceversa che di nuovo buona cosa tipica degli alpinisti nevrotici di città sì io mi ricordo mi ricordo quando andavo quando andavo noi passavamo l'estate a curma io quindi mi ricordo l'associazione delle guide che era subito dietro alla chiesa sulla salita che andava a plangore sì sì sono ancora lì e sotto c'era questo bazar di guedos che è un posto pazzesco che non esiste più eh dove si comprava di tutto e mi ricordo che loro erano là su questa su questa terrazza eh ed erano personaggi mitici no perché poi uno li uno li conosceva meglio magari d'inverno quando andava a sciare dove erano i maestri diventavano maestri di sci eh quindi però insomma la guida ha una sua ha una sua ha un suo fascino eh particolare ha un suo diciamo che diciamo che diciamo Bonatti per dire a Cormaier così come a Valtournansh Cervigna oppure anche a Cortina d'Ampezzo sono dove dove esistono le tradizioni di guide quindi sono particolarmente autorità autorevoli diciamo no queste figure non sono eh le guide singole sparse anche se il mio settembrino non fa parte di questa tradizione in un altro libro per esempio eh dove c'è la festa delle guide classica del quindici di agosto dove sfilano in costume lui da buon ribelle per esempio non si mette il costume si accontenta del cappello ecco quindi è un po' uno come dire eh inserito ma mai troppo così come sono tutti i cittadini così come è anche forse stato credo Walter Bonatti tutti quelli che vengono da fuori insomma restano comunque dei foresti eh però c'è questa tradizione importante quindi non non è una società guida come tutte le altre è stata la prima eh d'Italia ma io direi che eh non ne parlo tanto di questo aspetto perché mi interessa più la contemporaneità sì certo certo senti ehm ehm a un certo punto di 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 Nanni si dice è torinese imprestato alla montagna cittadino mai del tutto convertito nella vita valdigiana guida per passione e illusione aveva un senso speciale per la neve riconosceva a colpo d'occhio la struttura del manto e ne indovinava lo spessore questo 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 eh rapporto come dire di quasi quasi di osmosi che ha ehm Nanni con la montagna eh è una cosa che eh è verosimile nel senso che eh esiste questo questo sentimento questo questa conoscenza eh pazzesca del 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 no di della neve della del anche solo del del dello stato della neve insomma è una cosa che eh che nel libro viene fuori molto secondo me esiste come c'era uscito un libro famoso nel senso di Smilla per la neve no? Smilla viveva in un paese nordico quindi la neve faceva parte del suo paesaggio eh quotidiano ma questo vale anche per chi eh fa il mestiere della guida alpina perché se tu non hai questa osmosi diciamo questo sesto senso no? Che ti viene col mestiere eh non è che ci ci nasci eh come io non credo che si nasca scrittori è sempre un lavoro si impara però ti viene un sesto senso per cui tu devi eh accorgerti di cose che uno che vive eh in lontano e che in montagna ci va solo saltuariamente magari non coglie perché questo ti aiuta a salvarti la pelle anche se poi però eh per quanto riguarda la neve eh c'è questo questo paradosso la neve è imprevedibile la valanga è quanto di più imprevedibile esiste in montagna insieme al fulmine eh con la valanga e col fulmine c'è poco da fare cioè tu puoi essere anche un grande esperto ma se tu ti trovi in una condizione di pericolo è difficile che tu possa prevedere al cento per cento il pericolo e quindi ehm come dire se ti trovi lì eh puoi essere anche molto molto bravo ma la valanga ti può comunque eh travolgere ed è quanto è successo da alcuni famosi alpinisti e guidi alpine che avevano un'esperienza incommensurabile come Tony Gobbi per esempio che a Cormoia era un personaggio molto noto ed è stato travolto da una valanga sul sasso piatto nelle Dolomiti quindi purtroppo eh certi pericoli si possono cioè in montagna non si prevede mai tutto perché è un terreno d'avventura però ci sono delle cose proprio una scalata su roccia sicura si può sostanzialmente andare su abbastanza tranquilli invece eh il territorio della neve rimane un territorio una zona grigia ecco e questo è un po' uno degli elementi che io ho messo di nuovo nel romanzo perché settembrini come tutti noi che ci abbiamo fatti i conti per tanto tempo beh dopo un po' diffidiamo nel senso che siccome non abbiamo nessuna voglia di rimanere lì sotto perché poi è una morte terribile cerchiamo di evitare insomma queste situazioni e lui e credo in questo mi assomigli. È un po' come il mare no? La neve è un elemento che non è incontrollabile è totalmente incontrollabile dove tutto può cambiare nel giro di un quarto d'ora nel senso che la neve ha delle dinamiche così rapide così come il mare credo quando si alza quando diventa cattivo che noi possiamo essere bravissimi ma se ti viene una tempesta in mare e non hai prevista e beh puoi essere bravo finché vuoi ma sei sempre in balia di una cosa molto molto più grande di te e lo stesso vale direi per la valanga perché oggi sai con le previsioni meteorologiche il mal tempo si può prevedere veramente cioè trovarsi in una tempesta oggi bisogna proprio volerlo invece la valanga no tu puoi guardare tutte le previsioni però poi a un certo punto certi momenti certe cose capitano insomma sì sì certo e capitano nel romanzo a questa donna che è legata non si sa bene a chi non si sa bene neanche se è legata e ha l'altra donna invece Martina che combinazione è passata con il suo compagno pochi minuti dopo nel luogo dove è caduta la valanga quindi loro in qualche modo sono testimoni dell'accaduto ma non hanno visto chi c'era sanno che c'era qualcuno e vedono che non c'è più nessuno e quindi chiamano il soccorso se non fosse per questo caso fortuito anche perché ormai è tardi la neve è molle beh sostanzialmente la donna sarebbe spacciata perché un soccorso sotto la valanga deve avere dei tempi rapidissimi oggi con l'elicottero si fa in fretta ma non è mai abbastanza il cane in questo caso questa questa bella pastora belga che si chiama selli è ancora il mezzo più efficace cioè il più efficace di qualunque apparecchio elettronico però rimane sostanzialmente un terno all'otto cioè i cani molto spesso quasi sempre raccolgono trovano dei cadaveri purtroppo e quindi e quindi è è proprio una situazione dove non bisogna cadere salvarsi da una valanga spari dove essere spariti e dove essere scomparsi è veramente una specie di miracolo certo questo è un po l'inizio poi però ci sono tante altre cose no no è di tutto c'è soprattutto questo viaggio nella memoria che a mente resta molto ecco di questo di questo volevo parlarti nel senso che mentre mentre martina questo viaggio nella memoria lo vede come un come un lavoro quasi no si prende a cuore questa donna che si chiama angelica tra l'altro se non mi sbaglio e e quindi lei lo fa perché è abituata a risolvere i problemi dei suoi clienti fra virgolette invece nanni lo fa con una grandissima passione lui lo fa anche con un altro fine quello di capire anche chi c'era attaccato a quella a fondo di quella corda no la dinamica di questa cosa qui e e poi c'è la e poi c'è angelica che è una donna completamente spersa noi non ricorda più nulla non ricorda né quello che è successo dieci minuti prima né quello che era la sua vita né e che pian piano con la pazienza che hanno loro due pian piano per costruire la l'amnesia di questa donna hai parlato con persone come lei come l'hai costruito il personaggio di angelica ma io credo nella vita di essere sempre stato un po interessato a questo tema perché tante cose le avevo orecchiate insomma poi ho letto parecchio cercato di informarmi ho anche parlato con qualche qualcuno però sono andato un po a istinto nel senso che io so come sappiamo tutti che se uno ha un trauma può perdere temporaneamente la memoria mentre interessava il temporaneamente perché se fosse una cosa definitiva purtroppo non c'è nessuno questo temporaneamente e lì mi sono proprio messo io a a dir la mia non è che ho guardato i manuali ti porta a una condizione di cioè tu e come rinascessi no e tu come tornassi in fasce addirittura no nel senso che devi tu la vita l'hai vissuta ma non l'hai vissuta perché non te la ricordi e quindi la domanda è quanto noi siamo noi se non abbiamo il ricordo di quello che siamo stati no e questo è interessante perché una donna di 50 anni che non ricorda chi è nemmeno il suo nome è come se tornasse da un certo punto di vista a essere una infante ma dall'altro punto di vista però al corpo e anche le cognizioni di una persona adulta e quindi c'è questo viaggio questa questo questo contraddizione questa scoperta incrociata complessa dove quello che io ho letto ma che credo sia vero emerge lentamente tutto all'incontrario si parte dalle cose più antiche non da quelle di ieri e questo è lo dicono tutti sostanzialmente e quindi si parte da dai ricordi di infanzia e addirittura secondo me ma credo anche secondo certi studi e i ricordi più nitili non sono i nostri cari noi sappiamo di aver avuto una mamma ma non la non in quel momento non sappiamo neanche come si chiami e si ricordiamo invece magari più facilmente un odore o una musica che sono le cose più più sepolte nel profondo di noi insomma quindi è proprio un cresciamento cioè si ricomincia da come una come una psicanalisi profonda si ricomincia dalle cose più più interne ecco e questo è un po quello che capita lei e che poi sostanzialmente è sempre un modo di difendersi da un dolore da una da un senso di dolore che tu non riesci a sopportare è una cosa inconscia che uno sa ma che rifiuta di si trattò ricordare come è capitato perché ti fa troppo male e quindi ecco c'è questo e quindi diciamo che lo svelamento per forza avviene alla fine perché avviene alla fine di tutto questo processo di ricostruzione che tra l'altro a parte che è quello che che poi dà la tonalità gialla al romanzo ma la ricerca che loro fanno per ricostruire è una vera e propria indagine poliziesca in qualche maniera no hanno trovano persone che le mandano altre persone trovano documenti insomma è una vera e propria è una vera e propria indagine quindi questo è questo chi si aspetta una una un certo come dire ritmo nella lo trova lo trova assolutamente perché ce n'è ce n'è molto a un certo punto nanni parla di selvaggitudine che cos'è la selvaggitudine è quella che gli americani chiamano wilderness sì allora spesso noi leggiamo che le montagne sono selvagge anche nelle nelle come dire nelle promozioni turistiche no venite a conoscere non esiste la montagna selvaggia da noi è quasi tutta addomesticata la montagna anche sopra i 3000 metri ci sono tracce di vita umana dappertutto però loro attraversano un territorio particolare perché ecco un altro elemento che fanno questo viaggio si viaggio è all'alto adige così come il protagonista la donna sepolta aveva fatto lo stesso viaggio all'incontrario quindi si attraverso si attraversano per lungo le alpi no allora loro passano in engadina che il parco nazionale svizzero dietro vicino a san moriz che è un altro scusa se ti interrompo è un altro luogo nel quale io sono stato tantissimo perché ho fatto sils maria silvaplana luogo famosa anche posti meravigliosi nice è un po si nice l'ho visto la casa di nice in canada no perché sì 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 meraviglioso meraviglioso mila metri insomma è un posto unico però c'è un parco nazionale che il primo parco delle alpi molto antico che si chiama parco nazionale svizzero in engadina dove effettivamente esiste la wilderness perché loro hanno deciso che volevano capire cosa fa la natura se l'uomo non ci mette becco quindi è un parco proprio vero parco cioè non lì non si può fare niente addirittura se cade un albero sul sentiero resta lì e e l'escursionista ci gira intorno tu non puoi non puoi andare a toccare gli stambecchi ti danno un cannocchiale per guardarli insomma è proprio un parco dove si cerca di mantenere l'uomo fuori anche se può entrarci ma deve stare fuori perché non deve condizionare un osservatore ecco questo tipico svizzero tra l'altro come atteggiamento è interessante perché lì effettivamente forse come da noi in val grande sopra il lago maggiore possiamo quasi parlare di selvaggitudine cioè di una condizione della natura così come è stata come si è evoluta da sé no anche se poi la natura stessa cambia nel tempo eccetera mentre chiaramente in territori di cui non si parla nel libro ma di cui possiamo parlare noi adesso tipo in america tipo in certi posti ci c'è veramente la wilderness perché ci sono delle estensioni immense le alpe in fondo sono piccole sono tutte coltivate tutte abitate tutte piene di c'è un lavoro dell'uomo immenso dappertutto ecco quindi quando leggiamo montagna selvaggia beh insomma mettiamoci delle virgolette montagna più o meno naturale dove noi possiamo vivere un'esperienza di immersione nella natura questo sì sì forse questo è successo negli ultimi trent'anni trentacinque anni prima era un pochettino più adesso una volta io non mi ricordo che ci fossero quelli con le infradito che andavano in cima al monte bianco insomma in breghette tra l'altro qui tu a un certo punto parli di uno dei personaggi il papà della prima moglie di dell'ex moglie di nanni oltre un punto dice che lui dice è uno dei pochi che considera i turisti delle teste di cazzo allora che non considera i turisti delle teste di cazzo in realtà però chi ha vissuto quelle quei luoghi da come erano una volta ha un po questa ha un po questa pretesa di che siano suoi no che questi sono di degli intrusi che sono degli che sono degli no io io che non sono nato lì ci sono solo andato in vacanza per tanti anni quando ha cominciato a costruire dappertutto i prati non c'erano più e certi quelle donne con le pellicce le giaguare con le robe io li vedevo come degli intrudi io non ci sono più andato perché mi sembrava adesso non dico che siano delle teste di cazzo però in realtà il turismo ha un pochettino cambiato in peggio le cose in questi in questi luoghi non so se c'è chi può dire in meglio c'è chi può dire in peggio ma sicuramente ha cambiato radicalmente il destino della monta delle alpi soprattutto perché già sugli appennini è molto diversa la questione nel senso che è in poco tempo si è passati da una città contadina perché quello era anche le prime guide alpine erano contadini tagliavano il pieno d'estate o come primo mestiere non lo so a una situazione in cui sostanzialmente la città si è possessata della montagna ma non tanto dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista culturale quindi modello urbano il modello milanese che predomina ci ha messo tanto di suo e quindi ha cambiato tantissimo le queste cose allora chi e questi sono sempre cittadini alla nostalgia di un'altra montagna beh meglio che che vada in altri posti probabilmente nel senso che oggi le alpi sono veramente un mosaico complesso e differenziato quindi si può veramente scegliere no io posso prendere la mia cultura la mia abitudine portarle in montagna per il nuovo tutto se in certi posti oppure se io voglio fare una vacanza veramente diversa beh vado nel libro io parlo della val pelin per esempio e li trovo una montagna che non dico che sia quella dell'ottocento ma sicuramente è una montagna ancora dove predomina l'aspetto come dire naturale ecco almeno dal punto di vista del paesaggio e quindi io posso camminare posso fare tante cose in modo molto differente da quello che posso fare a torino oa milano ecco quindi è una questione anche di scelta ecco in questo c'è una gamma oggi notevole ma io ho voluto proprio entrare nel posto più nel crocevia di montagna più più tumultuosa perché mi interessava anche quella no no ma in effetti il quattro mila e otto sono lì cioè non sono e poi le ghini sono montagne straordinarie c'è niente da fare ancora oggi ancora oggi colpo d'occhio e mozzafiato è un pezzo di malaya sì 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 a un'ora e mezza da torino c'è una cosa abbastanza unica insomma c'è 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 quella curva dell'autostrada dove vedi il bianco la prima volta e momenti vai fuori strada perché rimani io non credo che esistano tante visioni così al mondo perché no 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 per arrivare al cospetto degli 8 mila bisogna camminare o bisogna avvicinarsi invece qui ci arriviamo proprio di botto infatti il mio nonno che è uno che è andato andava già lì dagli anni trenta quando ha costruito la casa al verran ha costruito la casa davanti allo chetif per cui vedevi il monte bianco da una parte e tutta la catena fino alla sacca è una è un è un no è una muraglia una muraglia una muraglia meravigliosa proprio poi ci sono le due due valli come dice spesso mesmer che di 8000 se ne intende beh non c'è poi tutta sta differenza perché è vero che noi arriviamo a 4.800 però parliamo da 1.200 e quindi di slivello l'altezza non è poi tanto differente perché invece in himalaya partiamo da 4.000 metri da 5.000 metri insomma non è una cosa da poco ecco adesso chiaramente con le funivie però anche lì versante italiano non è poi così addomesticato perché c'è la funivia dove adesso vanno tutti perché è stata anche rinnovata e ti porta in mezzo al massiccio alla punter bronner però tutto il resto si 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 suda infatti l'anfiteatro della 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 valle blanche spettacoloso anche facendolo in scie esatto e poi c'è il versante di chamonique invece è molto diverso perché ha più respiro è bello è molto bello e quindi è più una montagna ancora più ancora più glaciale se vogliamo sai nonostante che si stiano ritirando in un modo spaventore enormi sono enormi sono enormi arrivano fino al tunnel fino giù al bosson il bosson il bosson esatto quindi bianco è anche questo è anche un pezzo di antartide o di himalaia in mezzo all'europa più civilizzata no questa è di nuovo una cosa molto interessante perché sotto ci passano i tir e sopra ci passano le funivie però poi quando tu sei nel bacino non solo del talefre o dell'argentiere sei in mezzo al nulla sei in mezzo ai ghiacci quindi insomma è una cosa che fa pensare sì anche le valli laterali sono la valcarea valvenini adesso io non c'è un po che non ci vado però mi ricordo che era entrare in un altro mondo andare andare al soprattutto se poi ti infili nei valloni glaciali sì sì bellissimo e allora lì in tre ore veramente ti allontani dal mondo i rifugi sono spesso dei nidi d'aquila qui insomma è una montagna dove il contrasto è molto evidente sì 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 senti invece qui a un certo punto parli di fantasmi dici gli alpinisti amano dei fantasmi degli spettri delle ombre il mal di montagna è una variante del mal d'amore forse anche peggio in fili dei conti è una bella malattia e poi come il mal d'africa poi la montagna credo che faccia lo stesso effetto insomma dover rinunciare alla montagna credo sia abbastanza traumatico non poterci più andare non poterla più vivere non poterla più è sicuramente un problema per per uno che la vive in modo molto attivo e molto appassionato perché comunque l'età ti costringe non dico non andarci più ma diciamo a cambiare un pochino il tuo approccio allora c'è chi lo fa questo trasformato questo passaggio lo fa facci abbastanza abbastanza facilmente e c'è chi invece ci mette tanta fatica ci mette tanta fatica cioè ecco è come un amore come ripeto come dicevo all'inizio dove tu puoi dire razionalmente no quella roba lì non me ne frega più niente di quella donna lì non me ne frega più niente di quella montagna mi sono invadito ma è solo un mucchio di sassi però poi ti manca quel tipo di emozione ti manca quel tipo di coinvolgimento che di fatto poi è un coinvolgimento chimico come tutto come tutte le grandi emozioni ti manca proprio anche la fatica a volte no e quindi bisogna stare attenti perché tutti questi grandi amori sono droghe e anche se sono delle belle malattie un po malattie sono per cui c'è sempre il lato bello ed è anche il lato fisiologico perché a vent'anni è ovvio che bisogna lanciarsi in grandi passioni e però c'è anche il discorso che poi bisogna saper scendere come dice un altro grande alpinista che si chiama kamerlander cioè più difficile scendere che salire e secondo me lo è dal punto di vista alpinistico ma lo è anche dal punto di vista psicologico è molto facile in fondo seguire il proprio istinto seguire le proprie ambizioni seguire la propria forza anche giovanile è molto più difficile invece scendere e nel caso mio io l'ho fatto sicuramente attraverso il mio lavoro nel senso che ho ampliato molto gli interessi io non mi occupo più di alpinismo e basta mi occupo di alpi quindi mi occupo di tantissime cose e nel caso di settembrini lui secondo me si è salvato attraverso la sua la sua la sua attenzione per gli altri ecco la sua lui non è non è un individualista anche se a volte è un po rude ma lui non è un individualista lui le vede le altre persone certo capisce infatti a questo proposito ti faccio una domanda settembrini ha una ex moglie della quale ha ha avuto due figlie due figlie a questa compagna che va via nel momento in cui inizia il romanzo e incontra perché hai deciso di mettergli questa questa donna accanto non la compagna ma un'altra donna con la quale sono lampi e fulmini insomma c'è un'attrazione bella forte che però insomma lui non disdegna non no e questo 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 ne fa un personaggio perché la maniera in cui lui tratta questa ragazza è molto è molto carina molto divertente come ma l'ho fatto proprio per quello perché forse anche anche tu come dico io ormai faccio tutto nei libri diciamolo diciamolo noi nei libri ci mettiamo tante cose che vorremmo vivere noi quindi questa è la pura verità dopodiché con camilla che la sua fidanzata c'è già il rapporto già stato sviscerato un po nei libri precedenti allora in questo caso l'ho fatta sparire perché mi sarebbe piaciuto inserire un nuovo personaggio non avevo ancora in mente tanto chi era poi l'ho un po caratterizzata strada facendo ecco il fatto che sia una bella donna più giovane di lui molto più giovane di lui rende la cosa un po piccante anche se poi alla fine non succede niente però succede tanto cioè no no succede tanto non è vero non succede niente è quasi è quasi una relazione alla come si chiama saramago no sai che saramago ama molto quelle relazioni che non non hanno non giungolo mai a compimento e qui c'è una relazione ecco senti io ti leggo un paio di cose che mi hanno che hanno scritto giorgio però dice li ho già letti tutti adesso aspetto che nanni vada anche sul monte rosa invece andrea berthea dice a quando ci si incrocerà in sbarua o a bursè un salutone andrea andrea berthea è un amico che incrocia sempre in montagna effettivamente siamo tutti e due è un po così ogni tanto andiamo a rampicare ci troviamo dappertutto quindi lo saluto caramente senti a questo proposito c'è già un un idea per un no ancora no allora io ci tenevo tanto a provare appunto a allargare un po il pubblico dei miei lettori perché io credo che queste storie almeno la mia intenzione che siano rivolte a tutti non soltanto a chi è un esperto perché non mi piacerebbe questo e quindi volevo un po speriamo che questa storia incontri e poi che io attraverso anche l'accordo con l'editore possa farne farne altre mi piacerebbe molto perché non mi mancano le idee voglio dire questo settembrino posso fare capitale di colori ancora anche sul monte rosa come diceva il lettore però prima citerei che che insomma ascoltare un po gli opinioni di tutti ecco non solo di chi già lo conosce perché chi lo conosce sostanzialmente non è l'alpinista duro e puro come dicevo ma è più magari la fidanzata l'amico cioè è sempre un po laterale però è uno che in qualche modo c'è a che fare invece vorrei uscire anche da questo da questa cerchia e vedere un po cosa ne pensa chi chi come te insomma conosce la montagna ma con il modo normale ecco senza particolare coinvolgimento sì no c'è da dire che questo è esce nei gialli mondadori ma potrebbe essere benissimo un romanzo un romanzo cioè non necessariamente un giallo è una storia una bella storia era proprio quello che no è un romanzo che può piacere a chiunque perché perché il problema è questo che la montagna per colpa nostra è inutile che ci lamentiamo è sempre stata una cosa iniziatica no cioè ci si parla tra di noi si accenna appena certi termini no come se uno dovesse capire tutto al volo perché chi chi come abbiamo detto è preso dal sacro fuoco bene o male fa parte di una di una cerchia anche se ormai questa comunità è larghissima perché in montagna ormai ci va molta gente per fortuna quindi non è più una cosa così però allora invece per me no non è questo il mio intendimento io vorrei che diventasse un pezzo di un di un il pezzo del mondo che viviamo ecco così come potrei scrivere infatti c'è anche torino poi nel romanzo non è che c'è anche corso giudio cesare ecco vorrei che fosse un pezzo del nostro mondo non che fosse una cosa per chi per quei pochi eletti che ci vanno no no ma in effetti in effetti è una è un è un è un romanzo che combinazione si svolge in montagna non è un romanzo di montagna anche se poi la montagna è ci si sente che la montagna è un esempio tu hai inventato i tuoi romanzi a parigi sì esatto sì sì si conosci bene parigi sì 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 infatti sono e mettiamo sempre un pezzo di noi lì dentro è una condizione non è qua non quella di conoscere molto bene il posto che tu racconti io non potrei raccontare new york no esattamente neanche ma neanche se senza aversi vissuto no neanche esserci stato stato no no e la si vede subito quando qualcuno ti racconta un posto che non conosce certo dunque prima invece come ci stiamo avvicinando ai 45 minuti voglio solo dire che la libreria della montagna porterà ai tuoi tutti i tuoi libri e li spedisce in tutta italia quindi da dovunque voi stiate guardando potete ordinare i libri di enrico e farveli spedire dalla libreria della montagna e aggiungo una cosa che io domani passo lì e ne firmo alcune copie ecco perfetto se qualcuno la vuole firmata può dopo domani da giovedì in poi farsi avanti perfetto perfetto chi vuole il nome lo dice lo comunica al libraio perché siamo in un momento strano cioè siamo in un momento strano lì hanno appena aperto ma non è l'apertura ancora totale tutti noi siamo ancora chiusi in casa abbastanza quindi insomma bisogna un po' farsi coraggio però è anche importante toccare delle cose nuove insomma perché altrimenti questa pandemia ci ci fa diventare dei non si sta bene in casa poi alla fine da dio però insomma non bisogna non bisogna prendere le cattive abitudini a questo punto possiamo possiamo chiudere questo incontro è stato per me un grosso piacere mi spiace che non ci siamo visti di persona ma prima o poi capiterà siccome io sono un tuo lettore e presentare magari ci invertiamo le parti a questo mi piacerebbe molto questo mi farebbe molto piacere dai dai combiniamo combinata io pensavo abitarsi in val d'aosta invece vedo che siamo vicini io sono a due passi da te quello che dico che si sta bene quindi no io io chiuderei dicendo che è un bellissimo romanzo è un romanzo molto appassionante i personaggi sono personaggi ai quali ti coi quali diventi immediatamente amico diventi ti viene voglia di seguirli di di fare di un loro di ragionare con loro quindi io sono sicuro che un un romanzo che piacerà moltissimo auguro a questa nuova edizione dei gialli mandatori un grossissimo successo perché questo anch'io perché ne abbiamo bisogno è una vera veramente una bella è una bella edizione e quindi insomma anche se sappiamo che in questo paese purtroppo la lettura non è il il primo compito di tutti così però insomma e quindi il una coperta di neve di enrico camanni vi porterà sulle vette ma vi porterà anche all'interno dell'animo umano e vi consiglio a tutti una lettura e sono sicuro che vi piacere tantissimo e quindi ti saluto grazie a te speriamo di poterci prima o poi potremo incontrarci di persona e grazie al circolo dei lettori grazie al circolo dei lettori potremo perché non è la stessa cosa e quei salotti ci mancano il vivo ci manca grazie a tutti